La federazione dei dottori agronomi e dottori forestali della regione Emilia-Romagna ha partecipato al perfezionamento della stesura della nuova legge urbanistica regionale attraverso l'individuazione di due suoi delegati, uno dell'ordine di Modena e uno dell'ordine di Bologna. Questi due delegati hanno partecipato a due tavoli di lavoro differenti, uno il tavolo interdisciplinare delle federazioni di ordini e collegi professionali a Bologna a cui hanno partecipato oltre i delegati degli agronomi e dei dottori forestali anche i delegati dell'ordine degli ingegneri, degli architetti, dei geologi e dei collegi, dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari. A questo tavolo a cui partecipavano appunto solo ordini e collegi professionali se ne è affiancato un altro che era il tavolo di coordinamento indetto invece questo dalla regione Emilia-Romagna in particolare sotto la guida dell'assessore Raffaele Donini a cui partecipavano oltre ai delegati degli ordini e collegi professionali e tecnici anche i rappresentanti dell'associazione di categoria, delle associazioni ambientaliste e i dirigenti dei comuni capoluogo della regione Emilia-Romagna. Durante questi lavori sono emerse tutta una serie di criticità che sono state oggetto di osservazioni che ha prodotto il tavolo interdisciplinare delle professioni e parte di queste osservazioni sono state raccolte e recepite all'interno della legge in fase di approvazione mentre una parte è ancora in fase di stand by per cui ci si aspetta e ci si auspica che anche in quest'ultima fase possano essere recepite le ultime osservazioni che non hanno trovato spazio invece nella parte precedente, nella precedente fase. In particolare i dottori agronomi e i dottori forestali si sono occupati di quelle osservazioni che riguardavano gli aspetti che fanno parte di più del DNA della nostra categoria e del nostro sapere e cioè degli aspetti legati al paesaggio, all'ambiente e al territorio rurale. Noi abbiamo partecipato quindi alla stesura di queste osservazioni insieme a tutti gli altri ordini e collegi professionali in più però abbiamo redatto anche un documento specifico e specialistico legato unicamente a delle osservazioni sull'articolo 36 che è dedicato al territorio rurale. Anche per queste osservazioni sono state raccolte e recepite una parte invece le altre sono state rimandate a degli atti di coordinamento che saranno prodotti dopo che la legge regionale è stata definitivamente approvata per cui ci auspichiamo come categoria che anche le osservazioni che sono state rimandate agli atti di coordinamento possono essere approvate.